Ampia, ampia, ampia. Mister, domani è partita ad Ancona, esami importanti senza la sticella su un campo tosso contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà davvero tutti. Sì, è una partita molto importante dove il coefficiente di difficoltà si alza di molto perché affrontiamo una squadra forte. Sicuramente è una partita dove non bisogna sbagliare niente o comunque bisogna sbagliare poco. È una partita dove ci vorrà molta testa, molta rabbia e bisogna battagliare dal primo all'ultimo minuto. L'annata fu una gara scoppiettante, dalle mille emozioni, giocata a ritmi molto alti. In Billicos nella fine te l'aspetti così anche domani? Sì, è una partita dove i punti in palio sono importanti, visto la classifica. Ed è chiaro che mancano dieci partite dove il limite di errore si riduce molto. Noi il nostro obiettivo non deve assolutamente cambiare, abbiamo dieci partite, abbiamo cercare di ottenere il massimo. Poi alla fine tireremo le somme. La cosa più importante è che bisogna concentrarci soprattutto su noi stessi, che è la cosa che mi preme di più. Rispetto alle ultime settimane, hai avuto una settimana per preparare questa partita, una settimana tipo? Quanto è stato importante? Avere la settimana piena ti dà la possibilità di lavorare più nel dettaglio, perché poi sono sfide dove c'è molto equilibrio, dove i dettagli possono fare la differenza. Grazie.